Chiara Lamendola, una bella ragazza di 23 anni, morì il 30 dicembre del 2013 a bordo del suo scooter per una buca piena d'acqua profonda 12-13 cm mai riparata in viale Cavaleri Magazzene ad Agrigento. Finisce sotto un'auto che arriva dalla corsia opposta. Chiara morì su colpo, forse senza nemmeno accorgersene. Condannati in appello, un dirigente, un funzionario del comune, ma la sentenza dopo due anni non è mai stata depositata. Nessun risarcimento e si rischia ora la prescrizione. Il papà Lillo e il fratello Marco chiedono giustizia in memoria di Chiara. Una sentenza che non arriva mai e che rischia di finire dunque in prescrizione. La morte di Chiara ha distrutto le vite di una intera famiglia. Avevamo una figlia meravigliosa, una stella luminosa piena di amore, dice il padre Lillo, molto conosciuto in città soprattutto per il suo passato di operatore di ripresa. Da quel momento, da quel maledetto 30 dicembre 2013 per la famiglia Lamentola, inizia l'incubo. Quella buca mortale che era lì da almeno un anno, secondo i giudici, andava coperta, quantomeno segnalata. Il verdetto che confermava quello emesso il 12 luglio del 2018 dal Tribunale di Agrigento è stato emesso dai giudici della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo il 19 aprile del 2021. Un anno di reclusione per l'accusa di omicidio colposo e la pena inflitta al dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Agrigento, Giuseppe Principato, e al responsabile del servizio di viabilità, Gaspare Triassi. Non sono state però depositate le motivazioni con la conseguenza che non è stato possibile ricorrere in Cassazione. Questo inammissibile ritardo del giudice Alfonso Ferraro, incaricata di redigere la sentenza nel depositare tale sentenza, scrivono i familiari di Chiare, in una lettera firmata anche dal loro legale Daniela Principato, e indirizzata al presidente di sezione della Corte d'Appello, Antonio Napoli, si colloca in stridente, violento e oltreaggioso contrasto con le leggi dello Stato italiano, oltre che con sentimenti e diritti di noi congiunti della povera Chiara. I genitori e un fratello di Chiara Lamedola si dicono pronti ad incatenarsi davanti alla Corte d'Appello e rivolgersi al ministro dell'Interno, Carlo Nordio. La cosa più assurda di questa storia è che dopo due anni la sentenza non è stata depositata. In un paese in cui la giustizia funziona, questo solitamente avviene entro 90 giorni. Un ritardo che rischia di far scattare la prescrizione, ma anche rallentare il processo civile e il risarcimento dei danni per la famiglia.